Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul canale. Questo è un video abbastanza diverso dagli altri perché credo di fare un vlog oggi. Ovviamente non sarà un vlog con i fiocchi perché mi servirebbe una fotocamera migliore, un microfono migliore, un modo di fare video migliore. Vabbè, diciamo che bisogna un po' migliorare, ma nel tempo magari chissà. Comunque ragazzi, oggi vi devo dire un bel po' di cose che non vi volevo dire nei video di Minecraft perché non mi sembrava il caso. Siccome mentre faccio la serie di Minecraft non voglio occupare il tempo con queste cose. La primissima cosa che vi devo dire è la nuova programmazione dei video che è uguale alla vecchia, quindi quella che avevo adottato qualche mese fa. Ma purtroppo quella vecchia non ho potuto, diciamo, portarla avanti per alcuni impegni anche a scuola. Ma ragazzi, quindi per quelli che non conoscono quella vecchia, d'ora in poi farò tre video a settimana, il lunedì, il giovedì e il sabato, tutti questi tre giorni alle 14. Secondo me è un orario abbastanza comodo per tutti, sia per me che per voi. Perché voi, per esempio, finite a scuola e avete il tempo di vedervi in tranquillità un video normalissimo. Tanto non durò neanche troppo i miei video, quindi secondo me è un ottimo orario. Poi ditemelo voi, se questa programmazione non vi piace, posso cambiarla. Altra cosa ragazzi, mi serve il vostro aiuto per decidere i nuovi video che voglio portare sul canale. Perché sì, certo che porterò sempre la serie principale di Minecraft, però voglio portare anche qualcosa di diverso. Perché vedere il mio canale solo pieno di video della serie di Minecraft, sì, da una parte mi piace perché a voi piace molto la serie di Minecraft. Però voglio un po' differenziare. Per esempio, potremmo, restando in tema Minecraft, fare delle custom map o ogni tanto fare delle bedwars. Però le custom map, secondo me, sono una bella cosa perché ogni custom map cambia. Possiamo fare quello che vogliamo, siccome da un po' che non le vedo su YouTube, quindi secondo me è una bella idea. Ogni tanto magari potrei portare questo genere di video per differenziare un po', anche perché così almeno possiamo parlare faccia a faccia. Cioè faccia a pubblico. Però voi mi rispondete sotto nei commenti, quindi sono abbastanza contento, diciamo. Poi ragazzi, vi devo far vedere il nuovo monitor che ho accennato nell'ultimo video di Minecraft. Quindi eccolo qui, come vedete. È questo qua che vi centro nella videocamera. È un 27 pollici LG, full HD, abbastanza economico e per chi volesse vi lascio il link qua sotto in descrizione. E sì ragazzi, sto reggendo uno specchio per farvi vedere il monitor. Perché non ho una videocamera decente. Tornando a noi, ma soprattutto a voi ragazzi, vi devo dire grazie ma tantissimo per quest'ultimo mese ragazzi. Perché novembre è stato un mese pazzesco per la crescita di iscritti. Perché siamo cresciuti circa il doppio rispetto a ottobre. Quindi grazie mille, veramente tanto. Se non sbaglio adesso siamo sui 570 iscritti. Ah no ragazzi, 571. Ok, me l'ha messo a fuoco, meno male. 571 iscritti ragazzi, siete veramente tanti. Ma spero di continuare così. Anzi, se non meglio. Quindi ragazzi, vi chiedo sempre di condividere i miei video e il canale. Con i vostri amici per farli vedere un altro canale di Minecraft. Spero che appunto a voi piaccia questo canale. Però ragazzi, se c'è qualcosa che non va, basta scriverlo sotto nei commenti e proverò a migliorare. Quindi ragazzi, spero che questa tipologia di video vi piaccia. Se volete che me ne porti di più, scrivetemelo sotto nei commenti. O fatemelo capire grazie al numero di mi piace. Quindi se vi piace, lasciate un bel mi piace. Commentate con quello che volete vedere nei prossimi video. Iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessuna novità. E da sino di tutto, ciao a tutti.